buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di calendario posturale oggi lavoreremo di forza soprattutto forza di braccia ma anche un po di addome e schiena e lo faremo in una posizione un po strana ci mettiamo a sedere con le mani leggermente dietro il sedere i piedi sono davanti invece al sedere quello che faccio è stendo le gambe e aiutandomi con la forza delle braccia stacco il sedere portandolo in una via di mezzo tra le spalle e i piedi il pube lo ruolo verso il mento cioè tiro la pancia in dentro mando la codina tra le gambe in poche parole faccio una retroversione del bacino e rimango in posizione spingendo bene verso il basso con le braccia spalle distanti dalle orecchie rimango in questa posizione se sentissi che è un po troppo intensa posso rimanerci poco oppure posso scendere risalire scendere risalire si rimane in posizione petto aperto pancia attiva scarico bene il peso sulle mani la direzione delle mani è quella che preferite potete averla verso i lati dietro di voi davanti a voi mi raccomando non mollate la pancia sempre attiva e lentamente si torna giù e si sciolgono un po le braccia come vi dicevo la mano la posso tenere rivolta verso l'esterno verso il dietro verso l'avanti e potreste anche decidere di ruotarla in varie direzioni durante questo esercizio così da cambiare un po gli stimoli anche sulla muscolatura delle braccia quindi ripartiamo io prima le avevo ruotate verso l'esterno potrei ruotarle dietro di me stendo le gambe piano piano stacco il sedere ruoto il pube verso il mento apro bene il petto e rimango in posizione pancia tirata in dentro pube rivolto verso il mento il bacino in retroversione attenzione a non sprofondare tra le spalle spingo bene verso il basso piano 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 ce ne torniamo giù e si sciolgono di nuovo bene le braccia oggi stanno lavorando non poco abbiamo un ultimo giro da fare e quindi ci mettiamo in posizione chi vuole mette le mani nella posizione preferisce altrimenti ogni volta cambia come sto facendo io e premo con le mani spingo bene in basso con le spalle ruoto il pube verso il mento pancia tirata in dentro cerco di rimanere rigido di creare una linea rigida tra spalle bacino e piedi piano 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 si scende nuovamente e di nuovo si scuotono un po' le braccia se serve si possono mobilizzare anche un po' le spalle facendo dei cerchi nell'una e nell'altra direzione per oggi la lezione è terminata noi invece ci vediamo domani per una nuova sfida musica 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 Grazie per la visione!